Il neosindaco di Custonaci non ha perso tempo e da venerdì è già operativo negli uffici comunali per organizzare la macchina burocratica che ha in mente per il suo mandato. Domani sera Morfino otterrà una riunione di maggioranza per far quadrare il cerchio fra chi presiderà il Consiglio Comunale, quasi certamente una donna, e il quarto assessore, oltre ai tre già indicati a suo tempo. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno inviato una nota di chiarimenti alla Prefettura e all'assessorato regionale agli enti locali per capire chi dovrà convocare entro 15 giorni per legge il Consiglio Comunale e procedere alle nuove nomine, visto che sia il Presidente, lo stesso Morfino appunto, e la sua attuale vice Maria Stella Pace non faranno più parte del plenum. La seconda perché decadrà in favore di un nuovo consigliere che si dovrebbe aggiungere alla nuova maggioranza di Morfino che dovrebbe raggiungere gli otto consiglieri contro i quattro della minoranza, molto probabilmente guidata dallo stesso Bica. Ma ascoltiamolo ai nostri microfoni. Io già da venerdì, come sentenza immediatamente esecutiva, sono sindaco di Gusto Naci. In settimana procederò alla nomina dell'aggiunta. Poi il giuramento non avviene in Consiglio Comunale, una volta veniva in Prefettura, adesso avviene in Consiglio Comunale. La norma prevede che il Consiglio Comunale nuovo viene convocato dal Presidente del Consiglio Comunale precedente, uscente. In questo caso sono io che ero Presidente del Consiglio e non lo posso fare perché è incompatibile questa nomina. E quindi c'è questo aspetto tecnico, se deve essere convocato dal Consigliere Anziano oppure deve essere convocato dal Vice Presidente attuale del Consiglio, che fra l'altro secondo questa nuova struttura del Consiglio non sarebbe più neanche Consigliere Comunale. Quindi c'è un aspetto che il Secretario ha chiesto un parere, un quesito alla strada interlocale, penso domani e dopodomani arriverà. La norma prevede che si deve fare entro 15 giorni, quindi entro fine marzo ci sarà questa convocazione in cui io farò il giuramento e presenterò l'aggiunta. Ma già ieri sera operativo? Sì, già ieri sera ho avuto la prima telefonata che in Piazza Municipio, nella via Regina Margherita, non c'è da luce. Mi sono attivato, ho chiamato il numero verde, chiamando l'Enel Sole per segnalare il guasto e spero che in giornata venga risolto. Grazie a tutti.